Ideato e coreografato da Vladimir Marin, questo numero mette in pista, o per meglio dire, sotto la cupola del nostro tendone, la disciplina delle cinghie aeree. È tornata a gran voce nei spettacoli, nei festival internazionali. Riproposto in una moltitudine di varianti, è stato l'antecedente, voi conoscete sicuramente il numero dei tessuti aerei, è stato preso spunto per l'appunto da questa disciplina. L'anno scorso abbiamo visto anche al saggio di fine anno dell'Accademia d'Arte Circense di Verona un numero di catene, anche questa disciplina ha sempre preso vita da questa più antica delle cinghie aeree. L'artista ucraino 25enne ce lo propone in una versione elegante e poetica. Per l'Ucraina, in rappresentanza dell'Art Vision Production in Mozart, a voi Yuri Mamchic. di fine anno dell'Accademia d'Arte Circense di Verona, in rappresentanza dell'Accademia d'Arte Circense di Verona. di fine anno dell'Accademia d'Arte Circense di Verona, in rappresentanza dell'Accademia d'Arte Circense di Verona. di fine anno dell'Accademia d'Arte circ East ofματα attentamente in riluen migraines di statinistico. di fine anno dell'Accademia d'Arte Circense di Verona, in rappresentanza dell'Accademia d'Arte Circense di Verona, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.